Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Lorenzo Quale è il nome della Startup? Per il momento è Open Shelf, abbiamo cambiato perché... E prima si chiamava? Prima si chiamava Bookshare, però ho dei motivi... Tratta di condivisione dei libri tra utenti che amano avere il libro cartaceo e ovviamente è molto interessante per l'aspetto della geolocalizzazione Ok, ti ringrazio, ciao Ciao Dopo ti mando il libro